Allora, a chi lo diamo? Bamba, questa settimana non possiamo che darlo a malinconico. Malinconico non è un aggettivo, è un nome proprio di persona ed è il nome dell'ex, perché si è dimesso, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, governo tecnico di onesti, di persone prove, che cosa ha combinato questo signore? Alcuni anni fa, qualche tempo fa, va in vacanza, non mi ricordo il luogo, l'argentario, va in un albergo, sai proprio quegli alberghetti da quattro soldi, insomma 20 mila Euro per qualche giorno, quindi un albergo di lusso, si concede una cosa che probabilmente con il suo reddito non avrebbe potuto permettersi, vabbè comunque quelli sono affari suoi, ognuno i suoi quartieri li spende come vuole, sta di fatto che lui lì ci rimane qualche giorno e il conto è circa 20 mila Euro, va, dice lui, alla cassa per pagare e scopre fortunato, a me non è mai successo, scopre che il conto è già pagato, ma chi ha pagato il conto? no, guardi, è già pagato, lei non si preoccupa, lui dice che ha insistito, ha insistito, ma non tantissimo, così, a occhio, cioè non è che proprio ho chiamato i carabinieri, io avrei chiamato i carabinieri, qui voglio pagare, no, non la fa, perché lui è buono, è buono d'animo, non ha chiamato nessuno, l'ha segnato, disperato, piangeva anche, si segnalano anche delle lacrime, qualche lacrime, malinconico, non pagano, questa cosa a un certo punto, governo tecnico e viene fuori, viene fuori e ovviamente c'è dell'imbarazzo, perché quando uno ti paga 20 mila Euro il conto d'albergo, vuol dire che ci avrà la sua bella convenienza, senza pensare male, ma neanche bene, insomma, si monta uno scandaletto, si scopre che a pagare questo conto è stato quel signore che ricorderanno tutti, Piscitelli si chiama, un nome così, no, però non vorrei, no, no, comunque un imprenditore che quando ci fu il terremoto all'Aquila, in una telefonata che evidentemente era stata intercettata, disse che bellezza, adesso col terremoto qui faremo affari d'oro, quindi diciamo che un signore che è sul piano del buon gusto, insomma un po' deficitato, un po' deficitato, ma ecco che sta a pagare, il quale però ha anche detto perché ha pagato, perché era stato un altro tizio Balducci, uno di quelli della Crica, che insomma, cosa è venuto fuori? Che l'abitudine in questa cerchia di persone è questa, cioè si cambiava dei favori di questo tipo per creare uno stato d'animo, di disponibilità in queste persone che poi avendo un potere potevano anche restituire la cortesia, vecchio metodo, esattamente così, però la cosa che fa meritare il Bamba a Malinconico è che nonostante tutto il casino che era venuto fuori per questa cosa fastidiosa, che cosa ha fatto? A distanza di soldi qualche anno ha mandato un assegno per pagare l'albergo e l'albergo glielo ha rimandato lì e ha detto ma guarda, ormai è pagato, a Malinconico, è un po' tardivo, è un po' tardivo, Malinconico, Malinconico o Bamba? La parola ai telespettatori. Bene, con questo primo Bamba del 2012 noi vi salutiamo e diamo appuntamento la settimana prossima. Grazie a tutti.